in questo litro di capelli e buoni Ed eccoci qui, siamo pronti anche oggi durante la Milano Fashion Week con una nuova esposizione oggi ce l'abbiamo anche i prodotti di salute, benessere, bellezza con noi Roberta, il rappresentante di Forever Living Roberta cosa ci hai preparato per oggi? Cosa trova la gente in questo bellissimo stand? Sì, allora oggi si trova tutto dalla nutraceutica alla bellezza faremo però assaggiare l'aloe vera, i gusti che abbiamo così le persone si rendono conto del sapore e che ha un forte potere detossinante e poi abbiamo, per quanto riguarda, il trattamento di viso il collage di marino, le maschere, la piacere blu quindi per essere pronte per questo Milano Fashion Week non potete mancare questo stand, state con noi